E' andata bene perché la conferenza dei servizi per la realizzazione della terza colsia da Incisa a Valdarno si è chiusa positivamente e questo già è importante perché potranno proseguire i lavori che attualmente sono in fase di realizzazione per quanto riguarda il tratto da Firenze Sud ad Incisa. Importante è anche il gioco di squadra che è stato fatto tra la regione che ha coordinato i comuni interessati territorialmente per proporre ed ottenere molte opere connesse funzionali al migliore ingresso e uscita dall'autostrada che sono comunque destinate a migliorare complessivamente la mobilità nell'ambito della vallata del Valdarno.